Questa sera riflettori puntati su via salvo d'acquisto. Il campo della cittadella del rugby ospiterà il suo primo evento internazionale, l'amichevole fra le nazionali femminili dell'Italia e della Francia. Calcio d'inizio alle ore 18. A bordo campo anche le telecamere di Sky. L'evento andrà di fatto a chiudere l'esperienza biellese delle azzurre, che partiranno a breve alla volta della Nuova Zelanda per disputare il campionato del mondo. Del forte legame che si è creato fra la città di Biella, rappresentata dalla Biella rugby e le nazionali italiane, specialmente quella femminile già si è detto. Proprio ai piedi del mucrone, nel 2007, le azzurre debuttarono nel torneo delle Sei Nazioni, sempre contro la Francia. Il palcoscenico era però il Lamarmo Rapozzo. Gli ultimi sono stati giorni intensi ma memorabili. Le ragazze di coccia di Giandomenico si sono allenate sui campi dell'impianto gialloverde. Hanno presenziato in comune e al teatro sociale per l'evento Campioni sotto le stelle. Hanno passato una bella giornata con i ragazzi della flag rugby di Asad, reduci dell'esperienza Special Olympics di giugno. Il match di questa sera sarà di fatto la rivincita, pur rimanendo un amichevole, della gara giocata sabato scorso a Nizza, sempre contro le cugine d'Oltralpe. Allo Stade des Arborats, in Costa Azzurra, le francesi hanno spazzato via le nostre con un perentorio 21-0, maturato peraltro nel solo primo tempo. Il coach ha comunque confermato l'intero gruppo, salvo ricevere una brutta notizia nei giorni scorsi. Manuela Furlan ha riportato, durante la partita, un trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore e di quello collaterale mediale. Per la giocatrice triestina, capitano delle azzurre nonché record woman di mete segnate in nazionale, si preannuncia uno stop molto lungo. Addio mondiali e tanti saluti a Biella con anticipo, per iniziare il percorso di riabilitazione. Il nuovo capitano sarà adesso Melissa Bettoni. Ha detto il coach, stiamo sperimentando qualche alternativa per dare minutaggio alle atlete che ne hanno bisogno. Siamo dispiaciuti per Manuela, speriamo si possa unire comunque al gruppo in partenza per la Nuova Zelanda. Ricevere per la prima volta i gradi di capitano è un onore e una grande responsabilità, ha detto la Bettoni. Non avere Manuela con noi sarà difficile, è una delle colonne portanti del gruppo. Daremo il meglio soprattutto per lei. Siamo soddisfatte della preparazione dell'ultima settimana, abbiamo lavorato soprattutto sulla ricerca del timing tra di noi e sul miglioramento della comunicazione. Stasera contro la Francia dovremo mettere in pratica quanto provato durante gli allenamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.